Ciao, sono Renato, sono il tuo istruttore di spinning e questa sera andremo a fare un intervallo anaerobico. Sarà un range di circa 50 minuti di lavoro e andremo a fare fra le 90 e le 140 pedalate al minuto. Avremo un consumo calorico di circa 700 calorie. Saliamo in sella e iniziamo la nostra pedalata. Buonasera ragazzi, la lezione che andiamo a fare questa sera è un intervallo anaerobico. Vuol dire che la nostra frequenza cardiaca partirà da una base di circa 90 battiti al minuto e non arriverà a superare i 170 battiti. La lezione è strutturata in questo modo. Avremo due pianure di riscaldamento, la prima molto blanda, mentre la seconda sarà già una pianura di lavoro. Poi faremo una prima salita a circa 64 bpm, una pianura di lavoro, una pianura di recupero e due salite per un totale di 15 minuti molto intense. Successivamente faremo una pianura di recupero, buona lezione, mani in posizione 1 e iniziamo a pedalare e manteniamo il tempo. Mi ricordo la gestione della resistenza, mi raccomando, andremo ad aumentare con piccoli incrementi, ogni qualvolta sentiamo il bisogno. Quindi manteniamo la cadenza di pedalata, le braccia belle e morbide, mi raccomando, ginocchia parallele alle spalle e immaginatevi questa lunga pianura di riscaldamento. Sempre guardare avanti, un bel sorriso. Ascoltiamo la musica per tenere il tempo. Abbiamo ancora circa un minuto con questo ritmo, poi andremo a cambiare il tipo di pianura. Sarà leggermente più veloce e cambieremo tecnica. Mi ricordo che il primo brano serve per far salire lentamente il cuore. Dobbiamo arrivare a un range di riscaldamento di circa 130, massimo 140 battiti. Non dovremo mai arrivare nella soglia anaerotica, quindi mi raccomando, in qualsiasi momento se ho bisogno di bere o di detergermi, lo faccio senza nessun problema. È il tempo. È il tempo. Oh, 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 oh. Vai! Oh, 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 oh. Se posso, se voglio o se posso, inizio con la mano a stringere un po' sulla resistenza Diamo un piccolo impulso alla nostra pianura Dai, oh, 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 oh Inizia a spostare le mani in due Un bel respiro Dai Oh, 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 oh Utilizziamo questa seconda pianura sempre per riscaldarci Ma faremo picchi in cui faremo salire il cuore Quindi faremo dei brevi tratti di running Quindi, iniziamo ad aumentare leggermente la velocità Oh, 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 oh Dai Ascoltiamo la musica Dai Se sono troppo veloce o se non faccio fatica Piccolo incremento della resistenza Mi raccomando, senza esagerare perché la lezione è lunga Dai, dai Vai Ho, oh, 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 oh Ho, oh, 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 oh Spostiamo le mani in due Iniziamo con dei brevi tratti di running Quindi conterò io All'incontrario da 4 a 0 e ci alzeremo 4, 3, 2, 1, so 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 1, hop, 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 hop. Dai, dai. Pronti a scendere? 4, 3, 2, 1, gioca. Hop, 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 hop. Qualche istante di recupero. Il cuore sta lentamente salendo. Pronti? Di nuovo si sale. 4, 3, 2, 1, hop, 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 hop. Dai, 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 dai. Non teniamo ancora per qualche secondo. 4, 3, 2, 1, gioca. Recuperiamo, facciamo scendere il cuore di qualche battito. Dai, 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 dai. Piccolo incremento. Pochi millimetri bastano. Si sale nuovamente. 4, 3, 2, 1, hop, hop. Dai. Hop, 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 hop. Dai, dai, dai. Ci siamo quasi, eh. 5, 4, 3, 2, 1, gioca. Per respiro. Tolgo la resistenza. Lentamente. Abbiamo rallentato la pedalata. Recuperiamo pochi istanti. Respiro. La musica sta lentamente scendendo. Approfittiamo di questi pochi istanti per recuperare. Attenzione, si riparte. Quindi rimetto la resistenza che ho tolto. Pronti? Si sale. 4, 3, 2, 1, hop, 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 hop. Dai, 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 dai. Hop, 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 hop. Guardate sempre il vostro cardiofrequenzimetro, eh. Dai, 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 dai. Hop, 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 hop. pochi istanti e scendiamo 4, 3, 2, 1, jump recuperiamo ci avviciniamo alla nostra prima salita attenzione rallento bevo e mi asciugo ispiro profondo trattengo ok inizia la nostra prima salita è una salita cattiva quindi devo iniziare a stringere cambio di ritmo dai passiamo a 63 pedalate è una salita ripida quindi devo mettere energia e l'energia me la dà la resistenza vai la lezione è lunga non esagerate ma voglio vedere impegno vai vai ci siamo piccolo incremento piccolo incremento dai ci siamo pronti stiamo per svoltare il tornante di nuovo stringo stringo hop hop dai dai mi raccomando la frequenza non dobbiamo superare i 160 battiti altrimenti non si arriva alla fine della lezione dai dai hop hop dai piccolo incremento diamo qualcosa in più stiamo per arrivare al primo tornante piccolo incremento e ci alzeremo il running dai colpi 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 al mio via stringo 4 3 2 1 su dai hop 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 tempo hop 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 dai che il primo è andato hop 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 al mio via si scende hop 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 Pronti? Piccolo incremento Ora Ci avviciniamo al secondo tornante Pronti? Quattro, tre, due, uno, so Hop, hop Dai, dai Ci siamo Quattro, tre, due, uno Mi siedo Mantengo Mantengo Hop, hop, hop Hop, hop, hop Dai, dai Ci vuole energia Dai Un altro piccolo incremento Di nuovo Si sale nuovamente Stavolta Stavolta Jump Due, due, tre, quattro Uno, due, tre, quattro Tre, quattro Tre, quattro Tre, quattro Quattro Tre, quattro 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 Tre, quattro L'ultimo Un, due, due, tre, quattro Un, due, tre, quattro Il cuore Il cuore è alto Mantengo la cadenza Pochi istanti e siamo in cima Inizio a togliere uno piccolo Il cuore è alto Centosessanta Tre Cerchiamo di farlo scendere E tolgo ancora Hop Tolgo resistenza Ma mantengo la cadenza di pedalata Dai, dai E tolgo un altro Via E tolgo l'ultimo Bevo e mi asciugo Dai Abbiamo pianura di recupero Adesso Recuperiamo Abbiamo Sette minuti di pianura In cui faremo Un minuto di recupero E dei brevi tratti In running Sono Sette minuti Poi ci aspettano Tre minuti e mezzo di recupero Quindici minuti di salite Dai Quindi subito col ritmo Facciamo scendere il cuore Dai 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 Hop 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 Vi chiedo solo un minimo di resistenza Non pedaliamo a vuoto Non stiamo facendo la gita Non stiamo facendo la gita al parco È una lezione di spinning questa Hop 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 Dai Abbiamo recuperato per un minuto Fra un minuto iniziamo Dei brevi tratti di running 30 secondi Dai Dai Mi preparo mentalmente al mio running Immagino di essere su questa bellissima spiaggia Chiudo gli occhi Il sole al tramonto Il ritmo c'è Il cuore È sceso Pronti? Tre Do Oh lo so Dai Dai Hop 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 Dieci secondi ancora Tre Do Oh no Gioca E recupero 30 secondi di recupero E poi lo rifacciamo 15 secondi 15 secondi Ci siamo eh Quattro Tre Due Uno Guardo sempre avanti Il sorriso Hop 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 Dai 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 Il cuore comincia a essere alto Cavalchiamo l'onda Occhi stanti E si scende Quattro Tre Due All Gioca E recuperiamo Avremo Avremo dopo il tempo Per recuperare Dai L'ultimo sforzo Vi chiedo Piccolo incremento Di nuovo Quattro Tre Due Uno Dai Hop 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 Dai 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 Gioca Quattro Tre Due All Gioca E recuperiamo Siamo per avvicinare la nostra pianura di recupero Tre Tre minuti di puro relax Prima l'ultimo sforzo Tre Dove Tre Uno Do Ho 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 Dai Dai 3, 2, 1, go! 3, 2, 1, go! 3, 2, 1, go! Dai, ci siamo oramai! 3, 2, 1, go! 3, 2, 1, go! Apro! Libero tutta la resistenza! E via! 3 minuti tutti per voi! 3 minuti che ci avvicinano alla nostra salita! Altri 15 minuti di lavoro! Via, andiamo! Dai! Mani in uno! Chiudo gli occhi! Resistenza al minimo! Dai, dai! Un minuto è volato! Il cuore sta scendendo rapidamente! Dai! 2 minuti! 2 minuti! Inizia a fare fatica! Sfruttiamo questi minuti per recuperare, far scendere il cuore! Dare energia alle gambe! Dai! Non si pedala mai a vuoto! Non si pedala mai a vuoto! Sempre un minimo di resistenza! E' la resistenza che ci fa capire quanto siamo allenati! Un minuto! Un minuto! E poi 15 minuti di pura energia! Due diversi modi per interpretare due salite! Un minuto! Una con tanta energia! Tanta resistenza! L'altra con tanta velocità! Dai! Iniziamo lentamente a rallentare! Ci apprezziamo a andare alla musica! E iniziamo un po' per volta a stringere! Siamo arrivati quasi! Siamo arrivati quasi! Siamo lì! La vedo! La mia salita! Devo pensare che dopo questi 15 minuti Siamo arrivati quasi! Sono a casa! Oppure solo in cima! Dai! Ci siamo! Ma il respiro! Il cuore è sceso! Mani sulla resistenza! Dai! E' il momento di spingere! Adesso! Parto subito con una resistenza dura! La pendenza! La pendenza! E' la pendenza che ci spaventa! Quindi piano! Piano! Che arriva! Questo è il ritmo! Dai! Mi raccomando! Voglio vedere le facce tirate! Devo fare fatica! Faremo cambi di tecnica! Faremo 30 secondi seduti! 30 secondi! 30 secondi di running! 30 secondi di jump da 4! 30 secondi di jump da 2! Dai che ci divertiamo! Iniziamo! Iniziamola adesso! Iniziamola adesso! Stringo! 15 secondi al cambio di tecnica! se ne sto vorrai! Pronti a running! Stringo! 4, 3, 2, 1... So! lo facciamo per due volte è un piccolo loop jump a due 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 scendo a quattro 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 3, 4 3, 4 3, 4 3, 4 l'ultimo 1, 2, 3, 4 e sto giù parte il secondo loop se posso stringo 10 secondi a running 4, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Aggiunga due Uno, due Uno, due Uno, due Uno, due Già da quattro Uno, due Tre, quattro Uno, tre Quattro Hop 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 Uno, due Tre, quattro E resto giù E tolgo uno Pochi istanti La musica scende Il tempo è andato Pochi istanti Un bel respiro Ascoltiamo E la musica Il segno conduttore Inizio a stringere Rimetto la resistenza Che ho tolto E attenzione Via Dai Pronti? Pronti? Si torna in running Quattro Tre Due Uno E si va in tre Al mio via Quattro Tre Due Uno Dai Pronti a tornare in running? Dai che la prima è andata Dai che la prima è andata Eccoci Quattro Tre Due Uno Su Sentite la musica Lentamente sta accelerando Ci porta Sulla nostra Ultima salita Pronti a scendere Pronti a scendere Quattro Tre Due Uno Scendo Scarico resistenza Cambio di ritmo Dalle 64 Pedalate Alle 72 Dai E' l'ultima fatica Dai Si va in tre Liquid love Dai Facciamo il primo passaggio In running E poi in tre Quattro Tre Due Uno Dai Prima mano Seconda mano Dai 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 È uno sprint È una salita Agile Dai 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 Attenzione Già No Otto Otto Sette Sei Cinque Quattro Tre Due Uno Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Quattro Cinque Sei Sette Otto Seis Sette Otto Quattro Cinque Sei Sette Otto Sette 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 Otto 3, 2, 1 La tengo, la tengo, la tengo, dai! Di nuovo, transizione in 3! 3, 2, 1, via, dai! Mi raccomando, ve li sciolti sulle spalle! Pronti a tornare in running? 4, 3, 2, 1 Hop, 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 hop Di nuovo in 3! 4, 3, 2, 1, via! Di nuovo! Andiamo in running! 4, 3, 2, 1 E scendiamo! 3, 2, 1, go! Rallento! Tolgo resistenza! La musica ci dà pochi istanti per recuperare! Il cuore è molto alto! Mancano 2 minuti! Respiro! Raccolgo le ultime energie! L'ultimo minuto e mezzo! Poi la pianura che ci porta a casa! Ci siamo! L'ultimo sforzo! L'ultima stretta, dai! Eccola! Lentamente! Piano! Ascoltiamo la musica! Il basso arriva! Eccolo! Eccolo! Questa è l'energia! Dai! Stringo! Dai! Si va in 3! 3, 2, 1, via! 3, 2, 1, via! Hop! 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 Dai! Hop! Hop! Oramai siamo in cima! Pronti al running! 4, 3, 2, 1, pronti a scendere! 4, 3, 2, 1, scendo! E tolgo 1! Siamo in cima! Dai! 5, 3, 2, 1, scendo! Apro tutto! La pianura che ci porta a casa! Mani in 1! bravi, dai e facciamo girare le gambe 47 minuti di fatica più la pianura che ci porta a casa dai, andiamo chiudo gli occhi e via nessun altro sforzo sciogliamo bene le gambe respiri lunghi e profondi ispiriamo dal naso tratteniamo e fuori lentamente dai, e andiamo così dobbiamo cercare di far tornare il cuore alla stessa frequenza di quando siamo partiti quindi direi tra le 90 e i 100 battiti al minuto è fondamentale perché invece dovesse avere ancora un po' di energie e pensa di non avere dato tutto posso stringere portare nuovamente le mani in posizione 2 e fare qualche secondo di running quindi 4, 3, 2, 1 e mi alzo 4, 3, 2, 1 e scendo se invece sono stanco sto seduto e mi rilasso tranquillamente ognuno di noi da quello che può dai, ancora un minuto posso iniziare ad aprire pelli tranquilli sulla bike non è stata una sofferenza è un piacere venire a fare una lezione di spinning dai mediamente durante una lezione di spinning si bruciano fra le 550 e un range di 1000 calorie dipende da quanto il nostro cuore ha lavorato dopo vediamo quanto ho bruciato io in questi 51 minuti bene, iniziamo pure a rallentare piano, lentamente fino a fermare le gambe ricordo che è fondamentale lo stretching vediamo un po' io in questa lezione ho bruciato 795 calorie tenendo conto che ho parlato quindi vuol dire che il nostro cuore ha lavorato parecchio è che è stato per molto tempo oltre la soglia in cui ho detto io abbiamo iniziato la lezione ma è normale in una lezione del genere in un intervallo anaerobico bene o male si bruciano come ho detto prima tra le 550 e le 700 calorie ragazzi spero che la lezione vi sia piaciuta quindi pollinci su e alla prossima ciao ciao Grazie a tutti.